buongiorno buongiorno reggione nazio vito buongiorno a tutti quanti beh abbiamo ascoltato il tigitrino che dice che hanno rubato di nuovo i ladri sono entrati in un'altra scuola e vabbè i ladri fanno i ladri se non mettete le camere cioè io una volta c'era il provveditore il provveditorato ma non so come si chiamano questi questi signori della scienza e ecco vorrei avere un appello lo faccio a chi gestisce non certo ai dirigenti scolastici perché non possono non hanno fondi ultimamente mi hanno detto che stessi i maestri devono portare la carta igienica per gli anni ma anche i genitori diciamo vabbè ma diciamo queste cose già vecchie come dicevo ci porta la paglia ciò ci se la frega ecco e sarebbe ottimo che il grande dirigente provveditore come lo chiama zio vito che è anziano se mangiasse un po' questa paglia cioè la carta igienica e volevo dire detto questo vabbè aspettate vatti i furti perché a questo punto diciamo porte aperte a lei e chiunque bene tra la spiglia e se ne va e non paghi e forse ringrazio volte ringrazio beh grazie a me a Dio abbiamo trovato anche questo si trattava di pochi soldi ma non è quello il danno alla scuola alla cultura che viene fatta ecco lo scempio è come violentare la cultura che è femmina e quindi e niente e poi volevo dire un'altra cosa c'è questa vicenda di questa donatina questa signora che che ha lavorato 22 anni presso il carcere di potenza gestiva la cucina cucinava per i dipendenti quindi non per i carcerati perché so che loro si cucinano da loro se non sbaglio ma non ma voglio sbagliare anche perché Zovito non l'ha mai frequentato diciamo fortunatamente beh però lei cucinava per tutti i dipendenti quindi le guardie diciamo i direttori gli assistenti i sociali insomma tutte queste persone 22 anni non è uno scherzo solo che purtroppo si è ammalata di un brutto male di un tumore è iniziata a fare la chemioterapia è solo che l'hanno licenziata perché ha superato il termine ecco allora questa azienda che si chiama SLEM che già un uomo SLEM è come da uno scaffo a uno SLEM BAM magari mettiamo i titolari della SLEM in due carceri e a turno quando c'è l'ora dare il nord e scaffo SLEM 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 BAM no BAM fuori o SLEM o niente che sono disorrendo le hai detto tutte è strano quando succedono queste cose ho sempre campato ma no non è un caso per l'amor di Dio persone oneste e quindi diciamo l'hanno licenziata perché c'è una legge che dice che si supera i giorni ecco ma questa donna pare che ha superato si sta bene ha superato facendo la chemioterapia la radioterapia e quindi vorrebbe tornare a lavorare perché è la sua vita perché lo sa fare perché è giovane ancora e quindi perché no dico io ho letto che anche un'altra donna era successa la stessa cosa in Puglia ma un'intera regione 50.000 firme hanno fatto sì che l'azienda la riassumesse ora dico io e se era anche ho letto che alcuni politici si erano andati da fare per far riassumere erano stati portavoci di questa quest'altra signora in Puglia che aveva perso il posto ora io dico ecco possiamo raccogliere i film di Zio Vito fa l'appello non so creiamo un banchetto da qualche parte stesso lei una petizione vediamo un po' chiamiamo sicuramente i politici ci si daranno da fare Donati non ho pensato no non ho pensato sui politici dico magari ti aiuteremo noi ti aiutano i sindacati sono a quattro solo uno ma è già una buona percentuale e i politici aspetta cioccio mia l'erba non ho pensato sui politici di Zio Vito puranno venire sotto e stringi le mani mamma mia quei dimana quei dimana mi casaranno le prossime elezioni eh allo loro che gli ha detto questo in casa loro tutti eh non c'è nemmeno una casa salva e niente volevo dire quindi vediamo un po' di fa qualche cosa Zio Vito ha fatto il rappello e che vi devo dire il grande SLEM possiamo fare ma mi piace sta cosa io mi dobbiamo vendere i braccio in SLEM 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 se non capite fatevelo tradurre sempre la Greta si così si traduce la Greta forte era Greta la inna eh quel dio biondo ciao 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 ciao